Tutto ok? Bouchard, cosa ci fai tu qui? Non è il momento. È qui. Hai visto qualcuno quando sei arrivato? No, nessuno. Frigati. Bouchard, devo ritornare nell'appartamento di Fongro. C'è ancora qualcosa che devo controllare. L'abitazione del tuo amico, certo. Dov'è? Rue Valisi, l'edificio Fantele. Lo conosci? Lo saprai, mia autista. Sali. Cosa ci facevi tu a lui? Ho seguito l'arretato della polizia. E ha tirato troppo l'attenzione. E sapevo potessi aver bisogno di aiuto. Grazie. Non sarebbe meglio un posto più sicuro dell'appartamento del tuo amico? Alcuni indizi trovati a Louvre sembrano collegati alla sua morte. Devo controllare di persona. Ci siamo quasi. C'è qualcosa che devi sapere. Il canale radio della polizia, la notizia del momento, era quella di una nuova vittima del nostro, a Praga. Praga? Non sarà mica il traficante Vassili? Mattias Vassili? Sì. Come fai a conoscerlo? È collegato a quello che devo verificare nell'appartamento di Fongoi. Voglio entrare da sola. Ok, ti aspetterò qui. Ti ringrazio, Luisa. È appena entro a te. Credo che sia venuto il momento di sbarazzarcene.